Technogym vola in Cina e negli Stati Uniti. L'azienda Cesenate leader nelle attrezzature per il fitness chiude il bilancio 2017 con valori molto positivi, confermando le ottime performance all'estero grazie in particolare a una crescita del 30% nel paese orientale e del 20% nell'altro mercato strategico, quello statunitense. Technogym ha chiuso anche il 2017 con una solida performance nelle vendite a livello globale, ha commentato il patrona Nero Alessandri. Sul fronte dei profitti sono orgoglioso di comunicare ai nostri azionisti che lo scorso anno abbiamo migliorato in maniera significativa i già importanti risultati raggiunti nel 2016 sia per quanto riguarda l'utile che per il margine operativo l'orto. Il dividendo proposto è pari a 9 centesimi per azione. Guardando i dati del bilancio approvato mercoledì dal CDA, Alessandri ha di che sorridere. L'azienda ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 7,7% rispetto al precedente esercizio, con un aumento dell'utile netto del 42%, superando i 61 milioni di euro. Il margine operativo lordo si attesta a 120,2 milioni, un incremento più che proporzionale alla crescita dei ricavi. L'indebitamento finanziario netto segna invece un significativo miglioramento di oltre 36 milioni. Leader nel campo del fitness connesso al digitale, vedi la piattaforma di cloud e l'associazione Apple Watch, tra poco saranno lanciate novità di prodotto. Il 2018 si è aperto con la nostra settima Olimpiade e ha spiegato in una nota Alessandri, mentre abbiamo appena presentato Skillbike, la bicicletta in grado di portare in palestra l'esperienza del ciclismo su strada.